La beatificazione di fr. Tommaso da Olera. La prima cosa che amo dire a ruota libera, non ho carte in mano, non ho fatto ricerche particolari stamattina, ho rievocazioni di memorie, non ho tirato fuori i miei scritti, parlo come se fossi al focolare di una casa di Olera, da dove è venuto fuori questo incomparabile uomo, del quale Bergamo deve sentirsi onorata, perché in lui onoriamo anche una grande tradizione, la tradizione della catechesi, dunque del Vangelo, trasmesso dai nostri preti, dai nostri suori, dai nostri religiosi e anche dalle nostre famiglie. Quanti nonni sono stati dei veri catechisti nelle nostre famiglie? Tommaso da Olera non viene nella sua formazione, non viene da un istituto religioso, da un collegio, da un seminario, da un'associazione particolare, viene dalla catechesi parrocchiale. Quello che lui ha detto e ha scritto, quello che poi si è aggiunto nei suoi scritti, io lo penso così, per divina ispirazione, è qualche cosa che è nato come semente in questo grande emporio di bontà, di bellezza e di amore che è stato Bergamo nei secoli. Lo dico con gioia, ma lo dico anche come speranza che qualche cosa negli anni a venire cambi in meglio per tutti noi, non solo per la vita spirituale, anche per la vita nostra di comunicazione, gli uni gli altri. Un grande bergamasco, in questo caso un grande asceta, beh, per quello che ha scritto e che ha lasciato un uomo che merita di essere accostato ai grandi dottori della Chiesa. Perché dico dottore senza nessuna remora? E perché anche Teresa del bambino Gesù è dottore della Chiesa? Quante volte io mi sono domandato ma questa Teresa che cosa ha scritto che sia fonte di dottrina per me e per tutti noi? Niente di straordinario, la sua autobiografia è un racconto umile, semplice, bello, sincero, si capisce. Ha scritto qualche poesia nella sua vita, strimpelava un po' il pianoforte, non ha fatto cose enormi nel piano della cultura, ma la Chiesa cattolica, tutti noi abbiamo visto in lei la glorificazione della semplicità, ma perché in questo caso a fare la beatificazione o canonizzazione o decretare il dettorato non siamo noi. È Gesù che ha detto se non vi farete come i bambini non entrerete nel regno dei cieli. E sono anche contento di dire questo richiamando tutto il lavoro, si capisce, che è stato fatto recentemente dalla posturazione dei Capucini, dalla congregazione romana dei Santi, dunque i collaboratori del Santo Padre, e poi a Papa Francesco, che ha intuito immediatamente che poteva mettere tranquillamente la sua firma sotto questo decreto che chiama quest'uomo ad essere proposto alla nostra ammirazione, ma ancora di più, è meglio, alla nostra imitazione. Devo essere grato a quel medico di Innsbruck, ma adesso non ricordo neanche il nome, ho detto che non ho preso documenti, che ha mandato il Fuoco d'Amore, è una edizione storica, la mandata è il Papa Giovanni, quale conosceva dalla storia Tommaso d'Amore, ma non aveva letto Il Fuoco d'Amore, e se ne innamorò. E lo dovevano sapere i bergamaschi, che io, piccolo segretario, e fra Federico, va bene, che è un bergamasco di Trascorre Baneario, il laico Agostiniano, che faceva l'infermiera a Pampo Giovanni, e i due aiutanti di camera, come si chiama, i camerieri, insomma, Paolo e Guido Gusso, fratelli veneziani, a servizio del Papa. Io e loro, dunque, al capociare del Papa, negli ultimi mesi in particolare, due mesi della sua vita, abbiamo letto, o di notte o di giorno, lunghi brani del Fuoco d'Amore, e facevamo un po' fatica, perché era scritto con i caratteri settecenteschi, facevano fatica loro, e il Papa sorrideva e correggeva. Vedere questo Papa innamorato, quel libro, Sacro Santo, è mio, è mio, è rimasto a me. L'ho tenuto con una gioia straordinaria per tanti anni. Quando ho visto che Doriano Bendotti e la sua olera, ho visto questo entusiasmo, sono stato contento di darlo a loro, che hanno voluto confezionare una teca veramente preziosa per custodire questo libro che porta la dottrina, il pensiero, le riflessioni nella santità di un piccolo bergamasco, diventato grande nella santità, e vogliono tenerlo e esporlo, perché è stato nelle mani di Papa Giovanni, esporlo alla venerazione dei fedeli, che guardando o leggendo qualche pagina o qualche parola di questo benedetto libro, si sentiranno spronati a pensare alle loro radici, alle loro educazioni, al catechismo dell'asilo infantile o della scuola parrocchiare, alle buone tradizioni delle nostre feste religiose, tutte, umili o grandi che siano, che hanno formato la nostra coscienza e il nostro costume di vita. Questo a me pare un dono straordinario, che nel Duomo di Bergamo la prima beatificazione sarà di Tommaso da Ulera, nell'anno della canonizzazione di Papa Giovanni, nel ricordo dei tanti altri santi sacerdoti e laici uomini e donne che ha avuto Bergamo, mi pare che sia come un forte richiamo a tutti noi a fare veramente onore a quello che abbiamo promesso l'8 dicembre del 58 sull'antara della covozione di Pietro a Papa Giovanni che ha detto qui si inaugura l'era di Papa Giovanni. La storia parlerà di una era di Papa Giovanni. Qualcuno rimase un po' sorpreso di questa espressione che poteva sembrare un po' come dire patriottica che riguardava un po' una tenerezza verso la propria patria. A 50 anni dalla morte di Papa Giovanni abbiamo sentito l'altra sera a Rio degli Aineirino il Papa Francesco terminare il suo primo discorso al grande popolo brasiliano ma i rappresentanti di tutto il mondo con le parole stesse con cui Papa Giovanni conchiuso il primo grande discorso ispirato da Dio per l'apertura del concilio Vaticano II 11 ottobre 1962 Gaudet Mater Ecclesia e quali sono queste parole che il piccolo e il povero Tommaso d'Aulera ci può ripetere adesso a noi il Papa che dice le parole di San Pietro al paralitico sulla strada che porta dal tempio paritico guarda a Pietro e a Giovanni guarda e aspetta che una monetina venga perché tende la mano a domandare l'elmosina e Pietro con autorità apostolica gli dice amico mio io non ho né oro né argento ma ho ma ti do quello che ho la parola che libera la parola che salva il nome di Gesù Nazareno alzati e cammina ma non è forse l'invito questo che viene oggi dal Papa che celebra le giornate mondiali della gioventù in un grande immenso paese come mi sono commosso quando ho sentito il Papa dire a questo grande paese che ha i suoi problemi i suoi drammi si capisce busso alle porte del cuore del grande Brasile ma che cose straordinarie tutte queste e il piccolo Tommaso d'Aulera non può battere alla porta del nostro cuore e invitarci a vivere la canonizzazione di Papa Giovanni come un ritorno alle sorgenti della nostra grande tradizione per noi preti per i nostri seminari per le nostre istituzioni noi siamo qui noi siamo qui non per trionfare o battere le mani siamo qui per servire e amare a costo di qualsiasi sacrificio Tommaso ha amato Tommaso dove? Tommaso è vissuto nella povertà e nella semplicità Tommaso era uomo di buonsenso come sono i uomini e donne di montagna va bene ma soprattutto era impregnato della parola di Dio Dio si è servito di lui per farne addirittura un consigliere di uomini cosiddetti grandi della terra anche adesso gli uomini che hanno in mano le sordi della nostra Italia dell'Europa e del mondo hanno bisogno di essere sostenuti dalla parola dall'esempio dalla preghiera di questi cristiani che nel corso dei secoli hanno obbedito a Gesù portate la buona notizia non parole di condanna di paura di terrore no parole che portino la gioia la pace e incoraggino a camminare come ci ha insegnato il Signore e poiché il piccolo Tommaso dove era forse in paradiso chissà se pensava che un giorno Bergamo l'avebbe onorato in maniera così solenne il piccolo dirà io potrei ripetervi per questa circostanza una parola stupenda di un altro grande vescovo il capovilla ve lo dice con ingenuità parlando di Giacomo Maria Radini tedeschi è un vescovo di cui la Diosi potrebbe promuovere tranquillamente il processo di beatificazione le parole che Papa Giovanni scrisse nella biografia di lexit ecclesiam e tetraditi se ipsum proea sono valide alla lettera parola per parola ha amato la Chiesa aveva tre amori Gesù e Eucharistia la Madonna e il Papa di lexit ecclesiam e tetraditi ti ha offerto se stesso ha sofferto anche persecuzione questo ancora non è così ben conosciuto ma se fosse conosciuto diremmo ma che luce che abbiamo avuto e ripetere le parole di questo santo vescovo al suo segretario aveva il vescovo 57 anni l'avevano aperto per vedere cosa c'era dentro il cancro l'aveva divorato era la visiglia della morte lo richiusero lo misero a letto e disse al suo segretario Don Angelo l'ultima cosa che ti dico tu stai insegnando anche in seminario e ti raccomando una cosa di di ai giovani seminaristi che per fare il prete bisogna pensare in grande e guardare alto e lontano io dico un cristiano un batteggiato che partecipe del sacerdocio di Cristo della regalità di Cristo della profezia di Cristo anche un cristiano deve dire devo pensare in grande e guardare alto e lontano non è forse questo che i pergamaschi hanno promesso a Papa Giovanni l'8 dicembre del 58 non è questo che potrebbero ripetere tutti insieme a concordi in questa grande celebrazione la beatificazione di Tommaso d'Aulera io prego per questo auspico questo e tutti insieme col venerato vescovo di Bergamo benedico incoraggiandoli non abbiate paura di seguire Cristo ce l'hanno detto i Papi questo non abbiate paura non abbiate paura di dichiarare con umiltà sono cristiano e voglio esserlo per tutta la mia vita ma cristiani devono essere i miei pensieri le mie parole la mia vita la mia famiglia se ho peccato ho un Papa che è un Papà che mi dice non aver paura la misericordia del Signore ti aspetta Dio è un cercatore degli uomini è un mendicante che non che non cessa di cercarci e di mostrare a tutti noi la preciosità della nostra vita che vale qualche cosa più di qualche cosa visto che è un Dio è morto per noi mi è concesso di dire in anticipo beato Tommaso d'Oleira guarda a me piccolo e vecchio prete guarda uno per uno i tuoi concettidini bergamaschi qualche cosa di nuovo avverrà nella luce della fede